Oggi la ripresa degli allenamenti dell'Aquila di Maio verrà bacchettato per il gesto che è costata l'espulsione e il gol del pareggio a Barletta. Ma intanto il sindaco dell'Aquila Massimo Celente con un messaggio sul suo profilo Facebook ha elogiato Saveriano Infantino. Vorrei ringraziare un nostro giocatore dell'Aquila Calcio, Infantino si legge nel messaggio, questa volta non per un gesto atletico, un gol o un bel passaggio, ma per un'azione ancora più bella. Ha donato la sua maglia ad un tifoso della squadra avversaria che ne aveva fatto richiesta. Questo tifoso è anche un diversamente abile, ciò rende il gesto ancora più bello. Ma se il calcio tornasse ad essere un gioco e non un rodeo o uno scontro tra tifoserie non sarebbe molto più bello? Questo dunque in sintesi quanto detto dal sindaco dell'Aquila Massimo Celente, messaggio più che condivisibile. E intanto l'Aquila Calcio promuove l'iniziativa Invita a cena il tuo campione. Ogni tifoso rosso-blu avrà tempo da oggi fino a venerdì per inviare una mail ed invitare a cena nella propria casa il suo campione preferito. Nella mail bisognerà specificare il nome e il cognome del giocatore rosso-blu preferito, può esserne anche più di uno, che si desidera avere proprio ospite avendo cura di lasciare un recapito telefonico in maniera tale da poter essere ricontattati per l'organizzazione dell'evento. L'iniziativa Invita a cena il tuo campione si colloca nel solco di una serie di progetti assunti dalla società con l'intento di avvicinare tutti i protagonisti della compagine rosso-blu al tessuto cittadino, alle famiglie e soprattutto ai ragazzi. L'indirizzo mail a cui inviare la richiesta è infochiocciola l'aquilacalcio.com